Katia Ricciarelli, dopo una puntata del Grande Fratello VIP piena di cattiverie ed insulti, ha nominato Nathalie Caldonazzo, finita a rischio eliminazione insieme a Soleil Sorge e Carmen Russo. Soleil, confidandosi proprio con Nathalie, le ha spoilerato la nomination di Katia Ricciarelli, svelando la sua motivazione. Ti ha nominato Katia, lei e Carmen. Perché? Non le è piaciuto l'intervento che hai fatto su Miriana? Non le è piaciuto. E non è cattiva. Le danno fastidio le mancanze di rispetto. Le ha dato fastidio il tuo intervento in puntata. Nathalie Caldonazzo ci è rimasta male ed ha espresso il suo parere su Katia Ricciarelli. Ah, Katia mi ha nominato? Dopo che la trucco tutte le volte. Va benissimo. È cattiva. Fidati. È aggressiva. Troppo. Io ho mancanza di rispetto? Le ho fatto il massaggio, truccata. Io non posso difendere una madre da sola? Soleil ha cercato maldestramente di giustificare le parole di Katia su Miriana, ma non è mai stata offesa come madre. Il fatto che lei dicesse di essere una madre e quindi il figlio non può vedere certe cose. Se una madre vuole tutelare il figlio, lo fa in tutti i sensi. Se vuoi dire che sei una madre, come tantissime donne, sei coerente. Nathalie però non si è lasciata imbambolare. Katia ha detto, tu saresti una madre? E questa è un'offesa perché tu non sai cosa c'è dietro l'universo di una donna che cresce suo figlio da sola. Quello che ha passato. Io da madre ho preso le difese. Non mi è piaciuto nemmeno carogne quelle altre cose che ha detto. Che delusione. Sentivo un'energia negativa, sai quelle cose. Non mi sbagliavo.